Con la multistrada D-Air introduciamo un concetto nuovo nel mondo delle due ruote di un accoppiamento fra un giubbotto sviluppato specificatamente per garantire il massimo della protezione e un'integrazione wifi dello stesso giubbotto con la moto. La Ducati è attenta da sempre al mondo della sicurezza su due ruote al punto che abbiamo sviluppato negli ultimi anni una serie di innovazioni specifiche proprio per garantire un sistema di sicurezza attiva per la moto dotata di prestazioni crescenti quindi abbiamo controlli di trazione ormai standard sulla maggior parte delle moto, ABS e quindi un pacchetto che chiamiamo Ducati Safety Pack. Tutto questo riguarda la sicurezza attiva del veicolo ma estremamente importante anche la sicurezza passiva e quindi proprio per questo che quando siamo entrati in contatto con Dainese, un altro marchio estremamente importante, premium italiano che ci ha convinto della validità della sua proposta di sviluppare un sistema di sicurezza passivo quindi un giubbotto che potesse ridurre in modo estremamente importante l'effetto eventuale di una caduta, abbiamo aderito con grande entusiasmo e abbiamo sviluppato questo progetto che presentiamo oggi in diretta della multistrada di Air in cui questo giubbotto è collegato via radio a un sistema di sensori sviluppati specificatamente per la multistrada che permettono di capire esattamente qual è lo stato di moto e attivare il giubbotto nel caso che ci sia bisogno. Grazie per la visione!